Buonasera, questa è la prima serata di 9, è un programma questo che arriva fino al 20 di aprile, si chiama Puzzle Live e ha come intenzione quella di rappresentare in modo attendibile quello che si muove nell'ambito del panorama del nuovo rock italiano. Per inaugurare questa rassegna abbiamo scelto un gruppo piuttosto particolare, è un gruppo che in questo momento sta riscuotendo parecchio successo, piace molto, vengono da Firenze per la prima volta a Torino, Isit Fiba. Isit Fiba 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti